La birra Menabrea nasce a Biella nel 1846 e ad oggi è la più antica fabbrica di birra che ancora produce nello stesso stabilimento dove produsse la prima bottiglia più di 175 anni fa. Noi avevamo un'esigenza di diventare un'azienda più moderna e pertanto abbiamo scelto AWS per supportarci in questo processo della digitalizzazione e trasformazione digitale di birra Menabrea che sicuramente ci ha aiutato e ci sta aiutando a diventare un'azienda che può rispondere in modo più agile e veloce alle nuove sfide e esigenze del mercato che sono sempre più complesse. La sfida principale che avevamo era quella di poter continuare a garantire una crescita del nostro business e la sua marginalità offrendo il prodotto di migliore qualità e un miglior servizio al cliente. Corley è quella che viene chiamata cloud boutique, cioè un'azienda di piccole dimensioni ma fatta di grandi competenze tecniche, di grandi skill tecniche che vengono messe a disposizione dei clienti per il loro percorso di digital cloud transformation. La prima sfida che abbiamo affrontato con Birra Menabrea è stata quella di connettere gli impianti di produzione con i cloud, cioè andare a portare direttamente i servizi AWS in connessione con quelli che sono le componenti della linea di produzione che per natura sono tipicamente offline. Per affrontare questa sfida abbiamo scelto come primo obiettivo quello di fare una migrazione sul cloud che con il supporto di AWS quindi ha permesso di aprire nuove strade. Quei progetti che abbiamo sviluppato con Corley, uno dei partner selezionati insieme ad AWS. Il primo è il progetto MES e Manufacturing Execution System in cui abbiamo creato un sistema per il monitoraggio e l'analisi delle efficienze delle linee di produzione. Un altro progetto è il progetto Energy in cui abbiamo creato un sistema per il monitoraggio e l'analisi dei consumi energetici di stabilimento. Il progetto Admin in cui abbiamo creato un sistema automatico per la gestione dei dati amministrativi per semplificare appunto le attività di amministrazione. Grazie ad AWS abbiamo avuto la possibilità di accedere a delle competenze e delle tecnologie per le quali avremmo avuto difficoltà. Uno dei benefici più grandi che abbiamo ottenuto sicuramente è quello di essere riusciti a portare cloud all'interno di un'azienda ricca di tradizione quindi a connettere qualcosa che per natura era difficile da portare nell'ecosistema cloud e che invece adesso è collegato in tempo reale pezzo per pezzo ogni elemento della linea produzione con quelli che sono i servizi di AWS.